Per questo gioco utilizzo un mazzo di carte con tutte quante carte diverse e ti chiedo fortesemente di dirmi stop quando vuoi. Guarda la carta, ricordala, non so, anche la telecamera e ti chiedo di andare a firmare questa carta, vai. Perfetto, asciugamola e a questo punto la carta la andiamo a mettere più o meno al centro del mazzo, qui così. A questo punto prendi muovo il pennarello e aprilo per me, per favore. Perfetto, e vado a disegnare sul dorso della prima carta una riga, una semplice riga, ok? Perfetto, aspettiamo che si asciughi. Ok, mi vedi che è una riga, ok. Guarda, basta aspettare un attimo, scuotere lentamente la carta e così la riga incomincia a scomparire. Ok, e si teletrasporta su una carta al centro del mazzo. E questa carta è proprio. Grazie a tutti.